E buongiorno mondo, vero che ieri sera non vi abbiamo neanche più salutati dopo che siamo tornati da Tormina ma avevamo un sacco di fame, ci siamo mangiati quella pasta al forno che avevamo preso in rosticceria che ci stava aspettando guardandoci con gli occhi dolci, ci guardava con gli occhi dolci e quindi abbiamo mangiato, ci siamo lavati, abbiamo fatto due cavolate e poi siamo finiti a letto e basta ora siamo ancora a Giardini, Naxos, stiamo andando a farci una passeggiata direzione mare ma non ci fermeremo in spiaggia, ci prendiamo magari un caffettino perché poi vogliamo ripartire, andare in direzione Cefalù e poi farci il mare lì perché abbiamo deciso di farci due notti a Cefalù e rilassarci per bene in quel posto incantevole e niente, abbiamo pensato così perché da qui ci mancano ancora più di 200 km arrivare a Cefalù quindi diventa abbastanza lunga con il nostro camper e su strade provinciali che attraversano città, paesi, inizia ad essere abbastanza pieno di turisti quindi meglio andare, una bella passeggiata e poi si parte, game on! che bello il mare ho fatto colazione e adesso finalmente dopo dieci giorni di vacanza ne ho uno mio al mare uno e mezzo almeno uno perché ti conosco e mi farei scarpinare tutto domani mattina e stasera dove però? qua Cefalù, forse se c'è posto a parte per la funzione digestiva della colazione abbiamo fatto una passeggiata a dir poco inutile anche perché come dicevamo volevamo andare direttamente a Cefalù ma ci siamo fatti fregare da un'idea di passeggiata per visitare un paio di cose qui ai giardini Axos ma lasciamo stare abbiamo solo camminato per nulla quindi stiamo tornando a prendere il camper e partiamo perché ci sono sti 220 km che ci aspettano poco più poco meno quindi andiamo sole picchia di brutto lei straparla e io ho dimenticato il cappellino come mio solito perciò meglio tornare a dopo vi racconto una breve storia triste oggi è il 20 giugno, siamo partiti l'11 che Giappini mi ha detto il 20 e il 21 sono giorni completamente tuoi andiamo al mare a Cefalù ci siamo svegliati questa mattina siamo a Giardini Axos e mi ha detto facciamo una passeggiata a piedi prima di partire ok, ma giusto mezz'ora poi partiamo perché voglio andare al mare sì sì certo sono le 12 in punto mi ha mollata qui sul muretto e lui è andato a fare delle foto mi ha detto due minuti e arrivo sparito sto valutando di mettervi del sonnifero nella birra questa sera così almeno domani mi fa riposare in spiaggia avremmo voluto fermarci in qualche paesino e fare un po' di spesa mangiare avere già anche la spesa per stasera ma visto che avevamo un po' di avanzi ci siamo fermati all'autogrill abbiamo mangiato i nostri avanzi formaggi mozzarella insalata e adesso andiamo alleni caffè a prenderci non buono caffè o non buono caffè e quindi poi si riparte con calma ci mancano 150 chilometri molto bene ragazzi siamo arrivati nel pomeriggio al campeggio vicino al cefalù circa 3 chilometri da cefalù non abbiamo fatto più riprese perché abbiamo fatto le classiche cose che si fa da camperisti quando arriva il campeggio ti piazzi monti il tavolino fai il bucato ti fai una bella doccia e poi abbiamo fatto il nostro classico aperitivo con una bella birretta e adesso stiamo mangiando una pizza lo so che voi non mi state vedendo state sentendo solo una voce lontana e bassa perché abbiamo anche vicini di camper e non mi va di disturbare la gente mentre cena c'è di surbo la simo che mi sta guardando con occhio malefico e purtroppo non posso far vederne anche lei perché è tutta buia guardate perciò mangiamo e ci vediamo domani buonanotte the next day e buongiorno mondo non ci crederete mai ma stiamo andando in spiaggia come avevo permesso alla simo avremmo fatto uno barra due giorni da poltroni le carte in tavola erano due giorni quindi oggi è un pezzo di domani oggi è un pezzo che avevamo fatto l'altra volta sommati diventano due giorni di mare infatti stiamo scendendo dal campeggio abbiamo deciso oggi di non muoversi di qui fino a stasera che andremo poi a cenare a cefalù faccio felice almeno una volta che vado in spiaggia sennò poi dicono che sono uno strozzino no come si dice uno strozzo uno stronzino che non ti porto mai in spiaggia e ti faccio sempre camminare guardate invece dove stiamo andando un po' guardate qua e comunque la parola non era né strozzino e neanche stronzo e neanche stronzino ma era tiranno ma un tiranno secondo voi la porterebbe in un posto così si ma spiega da tutta il primo giorno dopo undici giorni di scarpinate senza sosta non erano questi i patti con una media di era ogni quattro giorni un giorno di mare eh tu li sommi tutti con una media di tredici chilometri al giorno almeno a piedi cosa fai mi riprende il naso addirittura a fare il bagno c'è oh un giappino che entra in acqua in questa spiaggia splendida i camper sono la sopra il campeggio si sviluppa tutto in quella direzione e adesso a fogo la simo che non sa nuotare vediamo come si tu volete vedere come si tuffa la simo? no tuffati non tuffati tuffati uno 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 lo il un dopo Anche oggi di fame non si è morti, siamo mangiati un bel piatto di pasta con i pomodorini in mozzarella bella fresca e adesso siamo di nuovo in spiaggia. Fa caldissimo ma siamo venuti presto perché poi adesso in mezzo vogliamo prendere il pulma per andare a fare cena. Siamo sul pulma per cefalu e questa è la situazione. Impegnativo, meno male che quando si muove arriva un po' d'aria perché a quel punto si muore. E' scattata. Stai facendo il video, tu mi sono andato a me. Siamo a cefalu, come potete vedere è stupenda. Guarda Simo, guardatela qua con la faccia dell'odio perché come al solito lei ha fame tremenda. Ha visto già un sacco di ristoranti in centro mentre passeggiavamo e mi sta insultando perché sto perdendo tempo a fare le foto. Di che sono le 8 e alle 10 dobbiamo tornare a prendere la navetta. Piangi davanti a tutti, crea un po' di compassione nei tuoi confronti. Senti, anche le campane suonano per te. Guarda che cappelli spigolosi che hai oggi. Sembra una scopa di saggina in testa. Ma quando mi porti dalla parrucchiera? Certo. Dalla pinnoera. Guardate gli occhi della gioia, solo perché ci sono seduti a tavola. E finalmente la Sima mangia. Ma di che ora è però? Le 7 e un quarto. 20 e 33. Vabbè, sei insicibile, non si mangia prima delle 21, delle 21 e 15. Hai fame dalle 19. Ma tu sei una vecchia che vive all'ospizio e non dovresti neanche andare in giro. Cosa hai ordinato? Usiate gamberi e vestigione di pistacca. Tu? Io? Basta le sarde. Le 69 euro, peggio spese di tutta questa cavolo di vacanza. Volevamo chiudere con un bel piatto di pesce, ma scemi noi, andare in un posto come cefalo super turistico. Abbiamo provato a cercare qualche trattoria un po' più isolata e non ce l'abbiamo fatta. Siamo finiti in quella lì sul lungomare. Ora dici, vabbè, sarà da turisti, ma si mangia almeno bene. Ti inculano sui prezzi o su tutto il resto, ma... E invece niente. Mi ha mangiato male, male. Io volevo provare la pasta con le sarde e veramente mi aspettavo qualcosa di molto più buono. Mi ha mangiato una pasta con una purée di sarde che... Una purcaria. Una purcaria. Spero che si sia visto, magari ho fatto al volo due clip. E niente. Ho preso quella con... Cos'era? I gamberetti e... Il pezzo di pistacchio. Il pezzo di pischiatto. 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 Pistacchio. Era una cosa nauseabonda, dolcissima. Buh! Vabbè. Adesso ci sediamo su sta banchina se la macchina qua dietro non c'è asfalta e... Guardiamo il mare. E tra poco andiamo a prendere il pulmo per tornare al campeggio. Quindi l'abbiamo chiusa male. Domani recuperiamo Palermo e vaffanculo. Basé il salto in id bo. E poi vabbè nella josé... C'è l'impheno. Disので la mia vacuna di red. Chatata a Jackie. Grazie a tutti. La mia vacuna camatura esternaanza. Quitable volunteer controlare al cambio. Esquerdo... Ho preso la mia vacuna. Sono proprio la mia vacuna manda. Laschter saniamo a ... числа!